Bene, allora andiamo subito da Noemo Maradona, il figlio illegittimo di Maradona e un internete da guarda giù. Ciao Noemo! Ciao Gene! Come stai Noemo? Tutto bene? Ciao Gene, tutto bene. A te, a tu come stai? Eh, non benissimo, ho questa gamba che... Eh Gene, ma cosa stai facendo? Ti sei messa a giocare a pallone, Gene? Alla tua età, tu se vuoi giocare a pallone devi giocarci alla Playstation. Ma fatti i cavoli tuoi, che Playstation, scusa, parlaci del Napoli per favore, piuttosto. Che partita hai visto? Vabbè Gene, un brutto, un pareggio che non è né carne né pesce, non serve a niente, Gene, è come l'UDC questo pareggio del Napoli. Scusa, ma se voi andate in Champions dovete rafforzarvi, no? Scusa, eh? Eh certo Gene, infatti è già sorto un nome per il prossimo calciomercato del Napoli, Gene. Ah, tu sei vicinissimo dell'Aurentis, no? Eh, altro che vicino, Gene, te lo ripeto. Pensa che abbiamo il cellulare e il telefonino in duplex. Ma che c'è il cellulare in duplex? Non esiste il cellulare in duplex, scusa, eh? Non esiste. Sì, sì, quindi si intercettano, lui intercettano pure me. Comunque il prossimo colpo del Napoli sarà Super Mario Balotelli. Capperi Balotelli, questo è un colpo eccezionale, scusa, eh? Sì, sì, Gene, perché lui ha origini africane, Gene, non si trova bene a Milano in mezzo alla nebbia e alla polenta. Ma tu hai mai visto in Africa la polenta? No, no, cosa c'entra la polenta in Africa, scusa? Ma perché devi sempre dire a fuori queste cose, la polenta in Africa? Poi Gene, lui gioca sempre che è scocciato, cioè nel caso in cui venisse a Napoli si divertirebbe di più, diventerebbe serio come mio papà Diego, diventerebbe una garanzia di serietà e compostezza, proprio come Maradona. Ah, certo, sì, come tuo papà, certo, un gioiellino, via, ecco, sì. Eh, diventerebbe un professionista esemplare, proprio. Sì, certo. Comunque, Gene, ho fatto l'offerta a Moratti. Sì. L'offerta consisteva, allora, offer per Balotelli e più conguaglio, perché tanto offer qua che ci sta a fare, non c'è manco la neve. Come? Offer più conguaglio per Balotelli? Ma cosa stai dicendo? Ma secondo te Moratti è un pirla? Secondo te, scusa, eh. Beh, in effetti si è Moratti. Va bene, Gene, ecco, esatto, bravo. Sì. Esatto, bravo. Comunque Balotelli, nel caso in cui venisse a Napoli sarebbe veramente fortissimo. E ci sono due casi, o diventa il giocatore più forte del mondo. Certo. O il nuovo boss di Scampia. E sarebbe una cosa... Ma tu sei veramente fuori di testo, scusa. E sarebbe una cosa veramente meravigliosa, contro il razzismo. Ah, sì, certo. Pensa, il primo boss di Scampia, di colore. Certo, vabbè, molto bene. Ringraziamo Noemo Magadona, un gigante, veramente. Fantastico. Ciao, Gene. Eh? C'è sto 24, Gene.